Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui perché? Perché vi voglio parlare dei poteri che noi abbiamo visto in qualsiasi anime o manga, no? E vi dirò anche quello che piacerebbe a me cioè un potere che ho visto, che mi piace talmente tanto che mi piacerebbe avere, chiaramente voi poi scrivetemi qua sotto il vostro quindi magari volare, vi piacerebbe, lo so, diventare invisibili o qualsiasi cosa, scrivetemi chiaramente il potere poi scrivetemi anche l'anime perché se non l'ho visto, insomma, vabbè Cercate ragazzi di spaziare quindi non pensate solo ai protagonisti non pensate solo magari ai poteri più fighi tipo Goku vola, allora voglio volare, no? Pure come Naruto, voglio tirare Rasengan no, non ha senso quindi cercate anche altri personaggi magari non personaggi principali ma molto secondari e pensate ragazzi, magari il loro potere può essere interessante o meno vi faccio un esempio ragazzi magari Shota Aizawa, no? il professore di Mayor Accademia lui ha il potere di cancellare gli altri poteri o comunque di bloccarli temporaneamente allora, in un mondo dove solo voi avete i poteri non ha senso perché non potete cancellare un cazzo ma no, in un mondo ipotetico dove tutti hanno un potere cancellare, comunque bloccare per un periodo, cioè dipende un potere non è affatto male quindi è anche questo un bel potere secondo me non è quello che preferisco io però, devo dire la verità non ci sputo sopra so che tanti di voi apprezzano magari il Super Saiyan perché no? Super Saiyan è forte perfetto però oltre a colorarti i capelli di biondo se tu non sai combattere non è che lo impari perché diventi Super Saiyan capito? quindi ti vengono i capelli biondi gli occhi azzurri diventi un figo però avrai successo con le ragazze poi cioè non capito? non è che c'è tanto di più adesso io la sto buttando un po' sul ridere però è così ragazzi mettiamo anche lo Sharingan ragazzi sembra una cazzata lo Sharingan potere fortissimo quindi non è come il Super Saiyan lo Sharingan ha delle abilità quindi sei fortissimo e lo Sharingan è tutto però se tu ti trovi uno che ti punta la pistola qui alla tempia così cioè tu non te ne accorgi neanche tu stai guardando dritto uno ti punta la pistola qui preme GG well play è finita cioè lo Sharingan non fa un cazzo tu devi guardarla una persona per riuscire a attivare lo Sharingan se no è GG well play però comunque devo dire la verità mi piace come potere non è il mio preferito vi dirò poi il mio preferito alla fine però dai ci sta però alla fine non è che cioè sei un essere umano normale hai lo Sharingan punto finisce lì mi è venuto in mente ragazzi Saitama il problema ragazzi di Saitama è che non possiamo dire voglio quel potere di Saitama cioè uno magari dice io voglio essere come Saitama a parte la pelata perché Saitama è super veloce super forte super resistente può fare praticamente qualsiasi cosa non riesce a ammazzare le mosche però è un'altra questione il fatto è che Saitama è un po' come Superman cioè io voglio di essere come Superman insomma voglio avere gli occhi che riscaldano come Superman mi faccio le frittelle capito e poi Superman viene sconfitto da una pietra Saitama no e quindi 3-2 più forte Saitama cazzo veramente più forte Saitama 3-2 Superman fai cacare con tutto il rispetto ma fai schifo anche perché tu sei un alieno Superman Saitama invece no si è allenato con un allenamento sì duro però insomma fai schifo Superman è meglio Batman magari ragazzi scrivetemi qua sotto un vostro frutto del diavolo di One Piece che preferite perché quello di Ruffy sinceramente a me non mi piace ma proprio per niente non mi piace né quello di Ruffy né quello di Robin Chopper vabbè lasciamo perdere quello di Brook fa cagare fanno tutti cagare però alla fine sono molto forti vabbè bisogna vedere anche come li sfrutti devo dire la verità in One Piece poteri poteri vabbè c'è quello di Ace del fuoco che ok ci può stare l'invisibilità che ce l'aveva Absalom si chiama poi adesso non voglio spoilerare ma non ce l'ha più lui cioè non lo so non vedo così un frutto tanto sgravato sì c'è quello di barba nera quello di barba bianca che sono fortissimi però non lo so ragazzi dico la verità non trovo un frutto in One Piece che mi possa convincere stavo pensando ragazzi un po' tipo a Jojo stavo pensando un po' a Fire Force mi è venuto in mente anche Ajin per dire le stronzate perché proprio Ajin lasciam perdere il re delle stronzate però non trovo tra questi qui un potere veramente figo cioè in Fire Force il fuoco va bene il fuoco Jojo purtroppo non lo conosco così bene so che non voglio parlare di Jojo perché non lo conosco so che anche lì ci sono dei poteri ma non li conosco ma da quello che ho visto non sono così interessanti Ajin a parte sì a parte evocare comunque controllare quest'ombra che è anche un tipo indistruttibile non ho capito non mi piace neanche quello l'unico potere ragazzi che mi viene in mente e penso sia anche il più figo almeno per me è quello di Gara raga io amo il potere di Gara la sabbia tantissimo piace tantissimo tu sei lì che ti fai i cazzi tuoi cammini per strada arriva uno come ho detto prima prova a spararti c'hai cazzo la sabbia che ti difende poi di giro ammazzi per dire una cosa che con lo sharingan come ho detto prima non puoi fare non lo so mi piace perché puoi fare tutto non puoi volare invece sì perché puoi anche volare crei sta nuvoletta di sabbia e te poi muove puoi costruire tutto qualsiasi cosa questa cosa magari una casa di sabbia che ne sai chiaramente fatta bene non è una casa che si scioglie sì ragazzi posso dirlo il potere di Gara è il mio potere preferito dopo c'è il volo e poi c'è tante altre cose cioè volare è bellissimo però anche puoi farlo anche con quello di Gara quindi alla fine raga ditemi voi il vostro potere magari scrivetemi anche l'anime o il manga se è un potere un po' più sconosciuto che vorreste avere e niente ci vediamo la prossima volta io spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel pollizio in su se non vi è piaciuto chiaramente pollizio in giù e bella